Benvenuti spettatori di Le Fonti TV a una nuova puntata di Agora Marketing dove parleremo delle strategie di marketing e di comunicazione di un brand molto importante nel mondo digitale Intel, un brand che lo ricordiamo è riconosciuto all'interno della classifica dei marchi top 50 a livello internazionale. Lo faremo in compagnia dell'ospite che mi ha raggiunto in studio ovvero il dottor Agostino Melillo, Communication Manager Italy and Influencer's Lead Europe, Middle East and Africa di Intel, a cui naturalmente do il benvenuto. Salve, grazie. Grazie a lei per essere qui con noi. Innanzitutto dottor Melillo, ecco, le chiedo che cosa vuol dire fare marketing per un brand importante come Intel e quali sono le vostre leve di comunicazione? Beh, è una responsabilità molto importante quella di rappresentare la comunicazione e il marketing di un'azienda che parla a un numero molto elevato di persone. Quindi c'è un lavoro molto importante da fare in termini di strategia, di obiettivi allineati con quelli che sono i valori della casa madre ma anche localizzarli rispetto a quella che è la realtà del contesto italiano. Quindi, diciamo, è un lavoro diverso rispetto a lavori che si fanno in molte altre aziende ma è una funzione che tutto sommato ha dei punti anche in comune con quelle che sono le peculiarità della nostra funzione. Ecco, ovviamente voi vi occupate insomma di tutto il mondo digitale, essendo questo tipo di azienda immagino che la comunicazione e il marketing sia legato e si svolga prevalentemente attraverso internet e i social. È effettivamente così? Allora, il mix di comunicazione si dirige verso i luoghi dove le persone si trovano, dove i nostri pubblici sono situati, dove il pubblico è possibile raggiungere il nostro pubblico. Quindi internet ha una presenza molto importante di persone, più dello 70% si connette ogni giorno su internet, circa l'88% se vediamo le persone tra 35 e 54 anni e restano collegati per circa 6 ore al giorno. Quindi sicuramente è uno dei luoghi dove si rivolge la nostra comunicazione. E una cosa molto importante che si è evoluta con internet è la misurabilità, perché avere la possibilità di tracciare, di avere una misurazione dell'impatto dell'esito delle attività di comunicazione che hai messo in campo è molto molto importante e internet dà la possibilità di fare tutto questo. E mi viene da dire che non è soltanto un'azienda così orientata al digitale come la nostra, dove noi costruiamo le fondamenta del digitale con i chip, con i processori e quant'altro, ma andando avanti nel futuro con un mondo sempre più digitale ogni azienda diventerà un'azienda tecnologica. Quindi essere presenti e conoscere il mondo digitale sarà un must per tutti. Certo, una necessità insomma a livello generale. Quando si parla di comunicazione digitale inevitabilmente anche si parla di social network, proliferano ormai, ne abbiamo veramente di tutte le sorti, da quelli più professionali che riguardano il mondo del lavoro, mi riferisco naturalmente a LinkedIn, a quelli più legati invece al personal branding come Instagram, come Facebook, senza dimenticare naturalmente e poi il fenomeno TikTok che è conosciuto e diffuso tra i più giovani. Ecco, quanto sono importanti i social network per voi e in quale social network vi riconoscete maggiormente? I social media sono molto molto importanti. Anche qui l'utilizzo dei social media è molto molto forte nel nostro paese come in altri paesi. Oltre il 70% delle persone hanno un account, su almeno un social network in Italia, quindi è importante esserci. Riguardo l'affinità, diciamo che non c'è un social media a cui siamo più affini degli altri, così come spesso si sente dire che ci sono social media adatti più a un target che a un altro. Secondo me non è così. Secondo me non è detto che LinkedIn o Twitter sono per B2B ad esempio, o Facebook e Instagram sono per il B2C, perché aziende sono fatte da persone e le persone sono dipendenti di un'azienda ma sono anche persone con un tempo libero e non c'è un interruttore per loro che decide di switchare on e off quando si trovano su un social media o su un altro. Quindi è possibile che io decida di comprare un paio di scarpe mentre sono su LinkedIn o su Twitter, così come posso decidere di rinnovare la flotta di pc della mia azienda mentre sono su Instagram. È un mondo molto più fluido. È un mondo molto fluido e basato sulle persone, quindi la differenza che c'è tra i social media è il fatto che il medium è il messaggio, come diceva Marshall McLuhan, quindi è il contenuto a cambiare. Quindi non mi sorprenderei se vedessi una pubblicità di una marca di scarpe o di rossetti su LinkedIn, ma mi sorprenderei se attuassero la stessa comunicazione su Facebook e su LinkedIn perché ovviamente il social media non è neutrale, quindi c'è bisogno di adattare il contenuto a social media ed essere autentici. Citava TikTok, TikTok è attualmente una sfida per molte aziende, molte non sanno come approcciarsi. È riconosciuta l'importanza perché ormai la generazione cosiddetta Z e su TikTok parlano utilizzando spesso i trend di TikTok, quindi si cerca un po' di intercettare i luoghi presidiati dalle persone, però bisogna farlo in maniera autentica, quindi replicare ciò che va di moda su TikTok probabilmente non è la strategia giusta, ma bisogna o affidarsi alle persone che sanno comunicare per loro, è autentico comunicare su quel canale, o trovare una propria strategia che funziona bene con il linguaggio di TikTok. Certo, ecco l'autenticità sicuramente è un valore insomma per voi e ne parleremo poi di valori, ma prima voglio introdurre l'argomento dell'influencer marketing perché naturalmente quando parliamo di social media parliamo anche del fenomeno degli influencer, youtuber appunto e poi i protagonisti di TikTok che lei ha citato. Ecco, ma l'influencer marketing quanto è importante per voi come azienda? Beh, è importante, continua ad essere importante e siamo anche in buona compagnia perché da una recente statistica ho visto che circa l'85% delle aziende valuta di continuare o di espandere le loro campagne di influencer marketing e anche dal lato dei consumatori la reputazione degli influencer, la capacità di riuscire a guidare o comunque a informarli a creare affinità con determinati brand è importante, circa il 77% di persone reputa affidabili gli influencer, quindi noi continuiamo a lavorare con loro e espanderemo, anzi posso dire che è diventato più maturo il modo di lavorare con gli influencer perché se fino a qualche anno fa si tendeva a consegnare agli influencer un contenuto pre-confezionato, quindi trattare l'influencer come un canale, adesso è sempre più riconosciuto l'influencer come persona, quindi con delle proprie caratteristiche, con un audience che li riconosce per i propri modi di fare, di rivolgersi per i prodotti che sceglie, quindi si cerca di fare in modo di creare un dialogo con l'influencer, proporgli contenuti e prodotti affini e cercare di fare integrare il brand nella loro vita. Faccio un esempio di un prodotto di consumo che potrebbe, un prodotto sì di massa, potrebbe essere un passeggino per neonati, vedere un advertising di un influencer che comunica questo prodotto magari lo rende più conosciuto, più visibile, ma vedere delle stories su Instagram di questo influencer che lo utilizza nella propria vita quotidiana dà un valore diverso alla comunicazione. Un prodotto di, immagino, identificazione anche e poi soprattutto di affidabilità della serie, se lo utilizza lui, allora o lei, possiamo fidarci insomma, visto che ha dimostrato la sua autorevolezza in più occasioni attraverso i suoi video, attraverso la sua reputazione che si è creato online. Quindi appunto abbiamo parlato di autenticità, di affidabilità, ma quali sono le altre caratteristiche che un influencer deve possedere per aspirare a diventare appunto testimonial di Intel? Mi riferisco naturalmente ai valori, agli atteggiamenti e poi anche ai numeri perché insomma quantità e qualità in questo caso devono andare di pari passo, immagino. Assolutamente sì. Come numeri non valutiamo il numero di follower, il numero di subscriber o quindi quelli che sono la fanbase dell'influencer, ci sono numeri più rilevanti a nostro avviso. Ad esempio la rich media dei post potrebbe essere un indicatore molto più affidabile rispetto al potenziale di visibilità di ogni contenuto dell'influencer o anche l'engagement rate, nel momento in cui vogliamo suscitare una discussione o avere l'engagement della fanbase. Ma ancora più importante sono i valori profondi perché nella scelta di un ambassador o di un influencer con cui fare una campagna c'è bisogno di un'identità valoriale che si basa su concetti più universali come ad esempio non devono essere volgari, non devono fare hate speech devono essere inclusivi gli influencer quindi fare in modo che nessuno sia discriminato nei loro contenuti e anche dei valori invece più legati al brand ad esempio se sono un brand che vende carne non andrò mai da un influencer vegano per proporre i miei prodotti quindi ho bisogno di una condivisione valoriale che viene prima ancora dei numeri tant'è che molto spesso ci si rivolge a dei micro-influencer nel momento in cui vediamo che più che la numerica e quindi il reach potenziale è importante che quell'influencer sposi i valori, faccia proprio il contenuto e il prodotto e riesca a veicolarlo nel miglior modo possibile anche perché l'influencer rimane influencer anche dopo aver avuto il rapporto col brand anche dopo aver avveicolato il messaggio ed è importante che la sensazione, il sentiment col brand resti positivo anche dopo certo, una sua autonomia comunque ma c'è ecco un personaggio, un influencer del mondo appunto dei social ma anche non lo so, del mondo dello spettacolo, dello sport che a lei insomma piacerebbe consegnare un progetto comunque legare la sua immagine a quella di Intel ce ne sono diversi, non faccio nomi in questa sede qualcuno ho avuto anche la fortuna di lavorarci già ad esempio posso citare il caso di un influencer molto giovane attivo su YouTube che era diventato noto per delle esperienze abbastanza fuori dal comune quindi esperienze estreme o molto creative anche lavorando con brand abbiamo visto questo YouTuber fare dei robot spettacolari per veicolare un messaggio di un brand e nel nostro caso avevamo un prodotto che matchava particolarmente bene con questo tipo di esperienza era una piattaforma per PC in grado di assicurare una durata di batteria di oltre 9 ore e di non far calare le prestazioni nell'uso senza batteria quindi abbiamo contattato questo influencer abbiamo detto le caratteristiche ma soprattutto abbiamo sfidato ad andare in una isola senza elettricità e di provare a montare il video utilizzando il laptop senza mai caricarlo quindi 9 ore di tempo in un'esperienza estrema molto molto affine a quelli che erano i contenuti di questo YouTuber molto interessante insomma il caso che ci ha esposto quindi aggiungendo tra l'altro un'altra caratteristica quella della creatività e del sapersela insomma cavare anche di fronte alle sfide ha accennato prima nella sua risposta anche alla facilità diciamo così per il mondo del web del digitale di calcolare il ritorno economico di un investimento attraverso appunto i dati che avete a disposizione però non è sempre così immediata l'equazione sappiamo insomma ci sono anche delle zone grigie che riguardano internet e il web quindi io ecco le chiedo quali sono gli strumenti che vi consentono poi di capire di verificare se una strategia di marketing di influencer marketing effettivamente ha avuto effetti positivi oppure no sì il tema è affascinante perché ovviamente nessuna campagna di comunicazione non deve cioè ogni campagna di comunicazione deve essere misurabile cioè nel momento in cui la tua campagna non è misurabile stai sbagliando qualche passaggio magari la domanda o l'impostazione della campagna stessa è errata quindi è importante partire sempre dalla misurabilità delle proprie azioni c'è stata un'evoluzione nella misurazione dei risultati prima nel parlare di engagement o di impression soprattutto quando sono earned quindi senza pagamento dalle relazioni pubbliche fino alla relazione con gli influencer si valutava l'advertising value equivalency quindi quanto quelle impression sarebbero costate in termini di spesa pubblicitaria è un po' in disuso questo metodo così come posso dire che il ritorno sull'investimento in tutto ciò che riguarda la parte alta o media del funnel è sempre un po' complicata nel momento in cui si parla di reputazione si parla di awareness è sempre difficile vedere quanto l'impatto sta avendo esattamente quel risultato un celebre imprenditore americano diceva io sono sicuro che il 50% dei soldi che spendono la pubblicità sono spesi male, sono inutili ma non so quale 50% sia quello utile quindi è difficile avere un ritorno una conoscenza immediata su quale impression ti sta generando quel ritorno però ci sono magari altri modi di porre la stessa domanda ad esempio non focalizzarsi sul ritorno sull'investimento ma sull'obiettivo quindi la risposta potrebbe non essere quanto è il ritorno sull'investimento ma il mio obiettivo è il raggiunto o meno quindi parto da un obiettivo, do un valore a quell'obiettivo nella strategia che si vuole mettere in piedi e si impostano dei key results per fare in modo, 3, 4 key results per fare in modo di poter tracciare questi obiettivi key results che devono essere dei numeri quindi avere modo di capire quanto quel key results è stato raggiunto o sia raggiungibile cercare di porsi un metodo per valutare e rivalutare questi key results periodicamente potrebbe essere mensilmente potrebbe essere due volte al mese in modo tale da poter ritoccare il budget o ritoccare le azioni da fare per raggiungere quel determinato obiettivo quindi è fondamentale impostarsi i giusti obiettivi e i giusti key results per rispondere alla domanda sto investendo correttamente o non sto investendo correttamente un campo in cui sicuramente possiamo rispondere che il ritorno all'investimento è positivo quando l'investimento è zero e spesso con gli influencer si può investire zero non è facile ma si può investire zero nel momento in cui si trova un win-win quindi una reciproca utilità e ad esempio nel mio settore dare informazioni a influencer per rispondere alla propria community dare prodotti in anteprima invitare ad eventi esclusivi o avere modo di potersi informare su quelle che sono le proprie passioni o fornire prodotti in grado di supportare i loro progetti sono tutte azioni che possiamo fare che non ci costano un investimento ma possono portarci risultati in termini di... è uno scambio quindi vicendevole e proficuo per entrambi alla fine esattamente, esattamente si tratta come dicevo prima di conoscere l'influencer l'influencer è come se fosse un cliente per certi versi quindi bisogna conoscerlo dargli valore per fare in modo che la sua esperienza sia positiva e possa a sua volta generare valore per la propria audience connettendola con il nostro brand quindi è una two-way connection con l'influencer e poi tra l'altro trovo anche particolarmente interessante questo punto insomma della misurabilità degli obiettivi magari più che appunto dei risultati rispetto ad un settore dove si parla poi prevalentemente di creatività quindi insomma l'aspetto diciamo più matematico, numerico unito invece a quello più artistico ecco diciamo così Dottor Melillo io la ringrazio tantissimo per averci accompagnato insomma in questo viaggio che ci ha permesso di conoscere strategie di marketing e di comunicazione di un brand prestigioso come Intel grazie per essere stato ospite di Le Fonti TV grazie a voi per l'invito grazie ringraziamo dunque il Dottor Melillo si chiude qui questa puntata di Agora Marketing io naturalmente vi rimando a tutta la programmazione di Le Fonti TV grazie a voi grazie a voi Grazie a tutti.